Allora, dove andiamo? Tutta New York si chiede col fiato sospeso se e quando la crisi dell'ostaggio finirà. Non più di mezz'ora fa la polizia si è trovata davanti a uno spettacolo incredibile. Una giovane donna tenuta in l'ostaggio all'interno di un taxi tenuto sospeso a 80 piani di altezza. Da qualcosa che sembra una gigantesca ragnatela. I tentativi della polizia per liberare l'ostaggio sono stati frustrati dall'uomo sabio. Ad aumentare il pericolo è apparsa una strana figura tutta vestita di nero. Inizialmente sembrava che l'uomo vestito di nero fosse Spider-Man, poi è stato identificato come qualcosa di completamente diverso. L'ostaggio è stato identificato. È Mary Jane Watson, un'attrice vista di recente in una breve apparizione a Broadway. Passiamo ora la linea indiretta alla collega che ci trova sul posto. Jennifer? Ci troviamo a circa 30 metri ora. Un momento, sembra che all'interno della ragnatela ci sia del movimento. Sembra che scrivano qualcosa a lettere gigantesche. Inquadra lì. Spider-Man, fermaci se ci riesci. È quanto fare qualcuno sta sfidando Spider-Man a una specie di duello. E questo fa nascere una domanda. Ce la farà ad affrontare una così preponderante... Sponderante! Harry! Mi serve il tuo aiuto. Da solo non ce la faccio ad affrontarne due. Non meriti il mio aiuto Harry Si tratta di lei Vattene Vattene